Ciao amico mio! Oh bello mio, che dici? Beh, niente, stanno in giro per i dipartimenti a salutare persone. Beh, è normale, è normale, bisogna, bisogna vendere il prodotto amico mio, bisogna vendersi come le puttane adesso. Eh ma adesso venito, quindi sai chi rende, perché c'è proprio la fatta dell'8 settembre, stiamo. Allora solo in quattro sanno quello che succede. Eh allora, monna, vai a battere con questi, amico mio. Ma non ti preoccupare, non ti preoccupare. Ma io lo so.